Allora, ciao Luca, in approccio, Roberto chiede, ciao Luca, in approccio come rispondi alle resistenze che lei ti fa inizialmente, per esempio, sono di fretta? Allora, devi capire se è vero o no, se ti dice che è di fretta semplicemente per, diciamo, per respingerti in maniera facile, è un conto, se è veramente di fretta è un'altra cosa, quindi devi capire innanzitutto se è vero o no, di solito è vero, quindi se è di fretta, innanzitutto, allora, se sei agli inizi, devi approcciare comunque anche quella di fretta per fare esperienza, man mano che sviluppi l'occhio e man mano che ottieni risultati, soprattutto, per risultati ricordiamo non è il numero l'appuntamento, il risultato è andare a letto con la ragazza, quindi se il mese scorso non si è andato a letto con una o due ragazze nuove, quantomeno dagli approcci di giorno, non stare a selezionare troppo, anzi, in realtà ti direi quasi per niente, quindi vai da quelle di fretta, quindi non stare a selezionare, se è veramente di fretta, cammina con lei, non credere ai minchioni che ti dicono se non si ferma è persa, un giorno vi farò vedere la lista di tutte le ragazze con cui sono uscito o con cui sono andato a letto che non si sono fermate subito, in realtà ho già spiegato questa cosa, poi un giorno ve lo faccio vedere meglio, quindi non credere ai minchioni che ti dicono che o si ferma o è persa, poi un giorno ve lo dimostro per bene, se è veramente di fretta inizia a camminare con lei e poi usa una cosa che si chiama falso vincolo temporale, quindi appena capisci che è di fretta le chiedi da che parte stai andando, dove stai andando, le tira, sto andando di là, sto andando a lavoro, sto andando in palestra, sto andando di qua e le dici questa frase che è appunto il falso vincolo temporale, le dici ok guarda cammino con te giusto un minuto che poi devo tornare indietro a incontrare un mio amico in piazza a Duomo, quindi questo qua è il falso vincolo temporale, quindi te lo smonto un po' la frase, comunque cerca di non cambiarla, cambia solo la fine riguardo al, così poi dopo devo tornare indietro a incontrare un mio amico in piazza, in via, in bar, quella poi trovi di te, però il resto della frase è non cambiarlo, quindi le dici ok guarda cammino, le chiedi dove sta andando, tira, sto andando di qua, le dici ok guarda cammino con te giusto un minuto, quindi le dici cammino con te giusto un minuto, quindi non dirle cammino con te tre ore, dieci minuti, non usare il verbo ti accompagno, oppure faccio quattro passi con te, perché c'è una pesantezza diversa di parole a livello di come vieni percepito, quindi il cammino con te suona molto più leggero, il ti accompagno implica che adesso questo mi accompagna, chissà quanto tempo sta con me, il faccio quattro passi con te è troppo pesante, questo qua adesso fa quattro passi con me e chissà quanto rimane, quindi non cambiare la frase, cammino con te giusto un minuto, quindi non due minuti, le dici cammino con te giusto un minuto, che poi motiva la cosa, quindi non lasciare lì la cosa, devi renderlo specifico, cammino con te giusto un minuto, che poi devo tornare indietro a fare la spesa, andare in palestra, incontrare un mio amico in piazza Duomo, quindi rendilo specifico, quindi guarda cammino con te giusto un minuto, che poi devo tornare indietro a fare questa cosa, e questa cosa rendilo specifico, quindi in questo modo guadagni tempo e durante comunque quel minuto lei non si ricorda che le hai detto che cammini con lei giusto un minuto, quindi se fai le cose fatte bene puoi camminare con lei e prendere anche contatti, magari a un certo punto si ferma, quindi questo è un modo per guadagnare tempo, andare comunque con lei, potrei farti un sacco di esempi